Questa sera, signore e signori, ladies and gentlemen, il primo giudice, voglio che voi abbiate in mente questa fotografia, Rio de Janeiro, Olimpiadi 2016, 1500 metri, stile libero, c'è solo lui, medaglia d'oro, mister Gregorio Paltrignieri! Ciao Gregorio, voglio toccare un medagliato, prego, prego, grazie, grazie, ci voleva anche una voce fuori dal cuore qua a Miss Italia, una femminista, attivista americana, l'ho voluta fortemente su questo palco per sentire che cosa avrà da dire rispetto a Miss Italia, facciamola entrare con un forte applauso, Anselma Dell'Olio! Buonasera! Buonasera! Benvenuta! Grazie! Sono curioso di vedere, anzi di sentire che cosa accadrà, eh? Bene! Si può sedere lì, grazie! Grazie! Allora, siamo arrivati al momento di un attore, un attore di teatro, un attore di cinema, tutti noi abbiamo riso almeno una volta per le sue battute, è un mio grande amico Vincenzo Salembe! Oh yes! Ciao cari! Buonasera! Senco, preparati che dobbiamo fare delle cose insieme io e te, eh? Non dire così, la vai bene! Andiamo alla zia d'Italia, lei, la zia di tutti, è la signora della televisione della domenica, è una persona incredibile, avrà tantissimi nipoti questa sera su questo palco, stiamo parlando di Mara Veniere! Ehi! Ehi! Buonasera! Buonasera! Vieni Francesco! Vai! Grazie! Tanti chilometri ci! Eh sì! Beh però sono dei gradini abbastanza comodi! Buonasera a tutti! Buonasera, buonasera! Ciao Francesco! Ciao! Baccia a mano, ci vuole un baccia a mano! Ma che gente! Allora, questo palco questa sera è anche tuo, quindi intervieni quando vuoi, ok? Va bene, va bene! Posso dirti in bocca al lupo, con tutto il cuore? Crepi il lupo! Eh, un applauso a Facchinetti! Grazie, 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 grazie! Ma mantenetevi per le Miss! Adesso siamo arrivati al momento di un attore, un produttore, l'America ci lo voleva portare via, è stato anche un nuotatore... Stava cadendo? Mamma mia! Come ha scassato la postazione? La Sala M è di qua, c'è una sedia libera! Selma, tu sei qua! Cerchiamo di aggiustarla! Mettetevi gli occhiali ragazzi, perché solo io! Allora, Selma è qua! Salem è qua! Ma io ho trovato il posto! Raul Pova è qua! Attenzione, Salem ha rubato il posto di Raul Pova! Ciao, Raul! Ciao, buonasera! 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 Allora, Raul, riprenditi il tuo posto! Salem è seduto lì! Eccoci qua! Salem, basta per favore! Mentre la giuria si autogestisce, anche perché dobbiamo iniziare a far vedere le miss, io devo fare un complimento anche alla nostra giuria tecnica, eccola qua, un applauso anche a loro, da 210 le ragazze che sono arrivate qua a Ieso sono diventate 60 e poi 40, è stata un'impresa ardua e difficile, quindi un applauso, un forte applauso alla nostra giuria tecnica.